Un saluto a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale. Al Mondiale Blitz 2021 siamo passati al monoturno per guardare insieme una partita importante e spettacolare, quella tra Duda e Levon Aronian. Dall'apertura inglese di Duda uscirà fuori infatti una partita memorabile. Partiamo! Il giovane polacco, come dicevamo, apre la partita di bianco con C4, questa è l'apertura inglese, Aronian risponde con cavallo in F6. Cavallo in C3, arriva E6. Allora, come continua Duda? Spinge il pedone centrale in E4. Questo è il sistema Flor Mikenas e lo sapete chi lo gioca spesissimo? Il nostro amico Dubov. Dubov lo ha giocato spesso e talmente spesso che Aronian di nero conosce bene questo sistema perché proprio contro Dubov ha perso 3 partite su 4 lo scorso mese a dicembre nelle partite blitz online dello Speed Chess Championship su Chess.com. Qual è l'idea del bianco? L'idea del bianco è la minaccia di avanzare il pedone in E5 per infastire il cavallo addirittura per spingerlo indietro in G8. Allora, come continua Aronian? Spinge subito al centro in D5. Ligna principale, qui Dubov contro Aronian ha sempre giocato E5. Andiamo a vedere che succede. Dopo E5 non giocata da Duda, il nero può continuare con D4. E per F6, D per C3, per non cambiare le donne si riprende con il pedone B, la donna ricattura in F6. Ma qui arriva D4, poi un bello sviluppo del bianco. Cavallo in F3, alfiere in G5 ad attaccare la donna. Insomma, un bel setup molto molto pericoloso. Duda invece esce da queste linee, probabilmente per sorprendere Aronian. E dopo D5 non spinge il pedone in E5, ma gioca la seconda linea più giocata, la seconda mossa. Che è comunque ottima C per D5. Allora, E per D5, solo adesso arriva E5. Aronian ha già giocato pure questa posizione, un'altra sconfitta stavolta contro Wesley So. Dove lo stesso Aronian aveva spostato il cavallo in E4. Ma stavolta è più preparato, gioca in maniera differente. Spinge in D4, il pedone cattura il cavallo in F6, il pedone del nero cattura il cavallo in C3, arriva Alfiere in B5 con scacco. Ora, di solito la mossa più giocata è C6. Invece di C6, Aronian gioca cavallo in C6. Il computer la preferisce questa mossa? E come mai? Perché nessuno ha mai giocato il cambio Alfiere su cavallo. Perché ritrovarsi, anche ad aver creato un difetto di struttura, ma con la coppia degli Alfieri contro, in una partita in cui il centro sarà completamente aperto, è molto molto difficile. Allora, dopo cavallo in C6, guardate Duda, donna in E2 con scacco. Toglie la donna dalla colonna D, in modo tale, dopo da poter riprendere con il pedone D, e ora qui non si può proteggere il re con Alfiere in E7 perché c'è il pedone in F6 e quindi Aronian costretto a giocare Alfiere in E6. Ora, D per C3, arriva senza il cambio donne, la donna ricattura il pedone in F6, cavallo in F3. Può il nero arroccare lungo? Non si può, sarebbe un terribile, e infatti non lo fa nessuno perché sarebbe un terribile errore tattico, perché dopo arrocco lungo basta giocare Alfiere in G5, vedete? Si guadagna la qualità, dopo aver preso la qualità si distrugge anche la struttura pedonale del nero. Quindi cosa deve fare il buon Aronian? Il buon Aronian deve sviluppare l'Alfiere in Camposcuro per arroccare corto. Arriva infatti Alfiere in D6, Alfiere in G5 attacca la donna, la donna nelle partite che ho in database si è sempre spostata in F5 e invece stavolta Aronian la porta in G6. Un'ottima novità, buonissima anche donna in F5, che rende la partita originale, ma adesso Duda deve continuare l'attacco senza il supporto delle partite che hanno già giocato gli altri campioni, quindi arriva Alfiere in D3 che attacca la donna, la donna si nasconde in H5. Ora, come può continuare a giocare Duda questa posizione? Questa è una posizione, come si vede subito ad occhio, molto ricca, molto complessa e sappiamo che in una blitz non c'è tempo per analizzare tutto. Ora, portare indietro questo Alfiere, che ricordiamoci, questo Alfiere, anche se non sembra, è una debolezza tattica. E come mai? Perché è un pezzo sotto attacco, in questo caso della donna, difeso non da un pedone, ma da un altro pezzo, in questo caso il cavallo. Quindi portare indietro questo Alfiere in E3 è sicuramente cosa buona e giusta, di sicuro la posizione non assumerà un vantaggio per il bianco, ma rimarrà bella ricca, ma comunque equilibrata. Un'altra idea sicuramente da considerare, e sicuramente Duda al volo l'avrà considerata, è sicuramente Alfiere in C4. E come mai? Questo è il secondo attacco su un pezzo inchiodato in maniera assoluta sul Re, e quindi va sicuramente considerato, ma dopo arrocco corto il bianco non ottiene nessun vantaggio. Guardate un po' che succede. Alfiere per Alfiere, il pedone ricattura, il bianco vince un pedone con scacco, ma dopo che il Re si è spostato, attenzione perché il bianco non ha nessun vantaggio, non può arroccare corto, perché va sotto un attacco mostruoso, non può neanche arroccare lungo, perché il nero gli cambia la torre sul cavallo, vince due pezzi per la torre. Oltretutto la cattura arriva pure con scacco, quindi disastroso. Quindi cosa deve fare? Deve tornare indietro con questo Alfiere, però arriva la seconda torre che attacca la donna, la donna si deve spostare in C4, donna in G6, guardate brutto, qui non si può arroccare corto, se no si perde il cavallo pieno perché il pedone rimane inchiodato sul Re. Qui la donna sta minacciando il pedone, ma non solo, allora bisogna giocare cavallo in H4 che attacca la donna, protegge il pedone, ma c'è l'invasione di donna. Donna in C2 che attacca la catena pedonale, gli è rimasto pure l'alfiere inchiodato, posizione molto scomoda per il bianco, per usare un eufemismo. Allora ritorniamo a noi, e quindi cosa si inventa il buon Duda? E si inventa un'altra bella idea. Gioca H3, a cosa serve? Attenzione perché in questa posizione G4 vince la donna perché la intrappola, e allora Aronian continua con Arrocco Corto. Arrocco Corto mossa migliore perché fa tre cose buone, porta il Re al sicuro, connette le torri, soprattutto schioda l'alfiere. Allora G4 non si può più giocare, perché perderebbe la partita di botto. Andiamolo a vedere velocemente, infatti Duda non la gioca, perché qui basta catturare di alfiere. Vedete, il pedone non può riprendere perché è inchiodato sulla torre. Qui il cavallo rimane inchiodato sotto l'attacco di due pezzi, sta pure arrivando torre in A che va in E8 ad attaccare la colonna, dove c'è la terribile geometria donna di fronte al Re. Allora, ritorniamo a noi, quindi cosa fa Duda? Arrocco Lungo. Di nuovo sarebbe stato meglio riportare indietro l'alfiere, ma la posizione rimane altamente complessa. Siamo però arrivati al nostro quizzone. Qual è secondo voi l'idea forte a disposizione del nero? Mettete pure in pausa se volete, e da voi la parola. Ritorniamo alla nostra partita, perché la soluzione del quizzone ed anche la mossa trovata da Ronjan è la forte cavallo in E5. Attenzione perché che cosa minaccia? Questa mossa minaccia cavallo per cavallo e dopo che il bianco ha ricatturato di vincere un pezzo con scacco, purtroppo per Duda il cavallo non si può catturare. Andiamo a vedere che succede. perché dopo cavallo per cavallo in E5 la donna cattura con tempo e quindi dopo che il re si sposta si vince un pezzo. Dopo cavallo in E5 non serve, non funziona più neanche riportare indietro questo alfiere in E3 perché arriva cavallo per alfiere in D3 con scacco, la donna ricattura, il nero ha vinto un pedone, ma più che altro ha indebolito l'arrocco del re e si ritrova proprio come dicevamo prima in una partita con il centro completamente aperto e con la coppia degli alfiere. Il computer da più 2 e quindi meno 2, quindi un vantaggio decisivo per il nero. Ritorniamo a noi e quindi che si inventa Duda gioca alfiere in E4 per portare avanti un'idea molto ingegnosa. Allora Aronian cambia il cavallo sul cavallo in F3, guardate cosa fa Duda, gioca H4. Protegge questo alfiere e quindi lui cosa vuol fare? Alla prossima mossa si vuole riprendere il pezzo in una posizione totalmente oppure quasi totalmente equilibrata. Se non fosse che Aronian ha in mente ed ha ben calcolato un sacrificio di donna immortale. Allora non dà tempo a Duda di catturare il cavallo perché rompe l'inchiodatura, cavallo cattura in G5, attenzione lascia la donna in presa ma vince il secondo pezzo e ora la donna attacca pure la donna del bianco. Allora donna per donna in H5, il cavallo cattura l'alfiere in E4, quindi 3 pezzi per una donna, ma Aronian ha due alfieri che vedremo taglienti come spade, tutti i pezzi ben coordinati e protetti e due minacce sulla scacchiera. La minaccia di catturare il pedone ma più che altro la terribile minaccia di catturare un pedone ma con forchetta che guadagna la qualità. Allora Duda alla mossa 18 deve tornare indietro con la donna in F3, attacca il cavallo e più che altro protegge la casa F2, arriva F5. Ora Duda capisce la gravità della situazione, non sta a perdere tempo a proteggere il pedone in A2, cerca subito di sbilanciare la posizione per cercare l'unico contrattacco possibile che sono i colpi tattici con la donna che è il pezzo più forte che ha. Allora arriva G4, cosa vorrà fare? Probabilmente centralizzare anche la seconda torre e provare ad attaccare i pezzi sulla colonna E, ora purtroppo questa mossa non funziona. Aronian però non se ne accorgerà. Qui si può catturare con il pedone in G4 lasciando il cavallo in presa perché guardate la coordinazione di torri e alfieri in campo aperto e micidiale. Guardate che succede. Dopo che la donna vince il pezzo, arriva alfiere in F4 con scacco, se il re si sposta in B1, la donna è persa con l'infilata alfiere in B5, se invece la torre si interpone, arriva alfiere per torre in D2 con scacco, il re ricattura, la torre spinge indietro il re, ma più che altro totale controllo delle case centrali quando il re si è spostato. Alfiere in D5, un'altra infilata terribile, vince la torre. Quindi posizione disastrosa, però qui non c'è tempo per queste sottigliezze, quindi Aronian gioca un'altra mossa molto buona. Gioca a torre in A che va in E8, che quindi a raggi X difende il cavallo, Duda continua con l'attacco sul lato di re, quindi spinge in G5, arriva alfiere in C5, e quindi qui di nuovo si minaccia la cattura del cavallo con Forchetta, allora torre in H2, seconda protezione della casa F2, Aronian guadagna il pedone in A2. Alfiere cattura in A2, arriva B4. Alfiere sotto attacco si porta in D6, attacca la torre, guardate un po' che succede se il bianco perde tempo a salvare la torre. Se la torre si porta in G2, arriva, scusate, mi ho sbagliato tutto, se la torre si porta in G2, arriva a 5 per aprire totalmente la protezione sul re bianco, B per A5 è praticamente forzata, torre in A8 e 4-5 pezzi su un re scoperto con attacco vincente del nero. Allora, cosa fa Duda? Duda per alleggerire la forza di questo attacco e sperare di avere ancora tempo per un contrattacco, cambia la torre sull'alfiere, torre cattura l'alfiere in D6, il pedone C ricattura, re in B2 attacca l'alfiere chiaro. Alfiere in E6, ora Duda trova l'ultima trappola, donna in F4, è uno sgombero, perché lascia la possibilità al pedone di avanzare in F3, che attaccando il cavallo lo intrappola, ma qui arriva torre in C8, quindi in caso di F3 il cavallo con la torre attaccano il pedone sulla casa C3, protetto soltanto dal re, allora Duda protegge questa casa con torre H3, arriva torre in C4. Terribile la minaccia della cattura con l'attacco di scoperta sulla donna, allora torre in E3. In caso di cattura, cosa vuol fare? Duda vuole riprendersi il pedone centrale e portare la donna, quindi migliorare la posizione della sua donna. Aronian con torre in D8 gli chiude questa possibilità, gli chiude la cattura in D6 come via di fuga, arriva H5. L'attacco è quello, l'unica possibilità è l'attacco sul re, H5, ma qui arriva la cattura del cavallo in C3, donna sotto attacco si porta in F3, che cosa vuol fare? Perché attenzione, perché il cavallo catturando minacciava pure lo scacco che avrebbe tolto al bianco l'ultima torre. Allora, donna in F3 controlla la casa di scacco di 1, alfiere in D5 attacca la donna, donna cattura in F5, ma torre in F8 è il colpo di grazia. Mossa 30, non si giocherà la mossa 31 perché Duda non ne può più ed abbandona e fa bene. Andiamo a vedere che succede se donna in C2 a proteggere tutto, pensate, qui si può anche catturare torre cattura in F2 perché il bianco non può, quindi con un'infilata terribile, ma con la torre in presa, ma il bianco non può catturare la torre perché c'è quel famoso scacco di cavallo che vince la donna, allora, dopo che il nero ha conquistato un altro pedone, bisogna giocare torre in E8 con scacco che costringe la torre a tornare indietro, torre per torre con scacco, il re ricattura, donna in F5 con scacco, ma dopo che il re si porta in E7 non ci sono più scacchi e la posizione è meno 6 per il nero. Ritorniamo indietro al momento dell'abbandono perché dopo torre in F8 naturalmente bisogna spostare la donna, se la donna si sposta in D7 e qui arriva lo scacco di torre con la cattura in F2, pensate, c'è già il matto forzato, il re si porta in A3, ma c'è torre in A2 con scacco, re in B3, la torre si sposta e l'attacco dell'alfiere dà lo scacco matto. Con questa spettacolare vittoria Aronian raggiunge la testa del Mondiale Blitz insieme a Fedosev e Sindarov, spero proprio che questo Mondiale Blitz vi stia piacendo, se vi sta piacendo non scordate di like al video, ma soprattutto non scordate di iscrivervi al canale. Come al solito vi ringrazio tantissimo per l'ascolto e noi naturalmente ci vediamo domani con un nuovo video. A presto! Grazie a tutti!